E' un problema vedere se riusciamo a portare questa partita a casa e dovremmo portarla giocando come sappiamo, è l'unica cosa che gli fa girare palla e non arrabbiarci tra di noi. Buonasera, innanzitutto ci sentiamo fiduciosi delle nostre forze e speriamo di giocare meglio rispetto alla scorsa partita che stava un po' mosci, non eravamo al cento per cento e oggi ci crediamo quindi dobbiamo giocare bene e così sarà, bocca a noi, crepi grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.